Nicola Marteucci, 21 anni, era scappato via da un incidente stradale avvenuto poche ore prima, dove però non vi erano state né vittime né feriti, ma alla vista dei militari qualcosa è scattato dentro di lui. Gli uomini dell'arma hanno così contattato la mamma di Nicola, dopo essere risaliti alla residenza del proprietario della vettura incidentata attraverso i numeri di targa. Il 21enne risultava ancora residente a Pian di Meleto, ma i carabinieri lì hanno trovato solo la madre. La donna ha provato a contattare il figlio, ma senza successo e così ha dato ai militari l'indirizzo della casa di campagna, dove il giovane si era trasferito da poco a Sant'Angelo in Vado. Per tranquillizzare il ragazzo, gli uomini dell'arma lo hanno fatto parlare con la mamma in viva voce attraverso il loro cellulare. Tutti lo hanno rassicurato che vi erano solo danni e non feriti, e bisognava solo tornare sul luogo del tamponamento per ricostruire l'accaduto. Nicola sembrava essersi convinto, ma poco dopo il colpo che ha raggelato tutti. Il giovane ha imbracciato il fucile da caccia che deteneva legalmente e si è sparato puntando la canna del fucile al volto. Il 21enne, forse per un senso di colpa eccessivo, come ipotizzano i carabinieri, si è tolto la vita.